Ciao a tutti ragazzi, sono Mattia Dolemuri e oggi sono qui per fare la nuova reaction al nuovo trailer del Ray Leone. Spero che sia ufficiale questa volta, ma ho i miei dubbi. Beh niente, discuteremo insieme dai. Tra parentesi, stavolta è veramente molto figa. Rimpiccerisco un po' la cam, perché si, si parte, partiamo, partiamo, qua c'è una bella alba, bellissima, c'è il gestore, qua ci sono i soliti animali, i soliti animali bellissimi, wow ragazzi, notifiche di Youtube, i soliti volatili, che c'era anche dell'anime, Disney, adoro. Adoro, wow ragazzi, guardate le giraffe, i elefanti, gli animali, Simba, qui sta guardando l'impronso di suo papà, Mufasa, qua, oddio, bellissimo, no ragazzi, questo qui deve essere vero, già dai, troppo, mi piace troppo, ci ha fatto benissimo, la rupe della, c'è questo qui, raffichi, raffichi, simba, oddio no, no ragazzi, addirittura, c'è ma, tanta roba, bellissimo, c'è adoro, adoro, devo uscire questa coppa forza, devo vederlo, poi a mio marito vi fanno l'inchino, bellissimo ragazzi, fantastico, mi piace troppo, sapete, Lion King, penso che sia finito, sì, finito, è veramente bellissimo, mi piace veramente un casino, non so voi che ne pensate, io spero che sia vero da stavolta, cioè, troppo bello, ah, non è ancora finita, tra l'altro, c'è Simba che ruggisce, Simba che ruggisce, l'avete visto? vediamo insieme, siete andati indietro un pezzettino, vediamo qua ci sono le scritte finali, ma non è ancora finita, ve lo sapete che non è ancora finita, perché, vabbè, l'ho appena detto, eccolo qua, Simba, wow, ragazzi, bellissimo, finito, qua ci sono i messaggi di mio amico, ma, vabbè, niente, io vi ringrazio per la visione, se vi è piaciuto, lasciate un commento, mi piace, se non siete iscritti, iscrivetevi, noi ci vediamo in prossimo video, ciao ragazzi!